Ciao, sono Marco di HTMS, società di rappresentanza. Finalmente dopo molti mesi di chiusura ci troviamo in una fase diciamo positiva, almeno sulla carta, nel senso che almeno si vede questa voglia di ricominciare, voglia di positività, voglia di pensare finalmente ancora a viaggiare. Sappiamo che sia un momento molto duro per tutti noi, per tutto il mondo del turismo in particolare e quindi comunque comincerà a vedere dei segnali positivi o qualcosa che comincia a dare un'energia nuova, una vitalità nuova. Noi nell'ambito del nostro portfolio che è maggiormente lungo raggio abbiamo il Portogallo che è una destinazione che sta riaprendo e che quindi potrà accogliere turisti praticamente dall'immediato e poi da luglio riapriranno le Maldive che è un'altra destinazione per noi molto molto importante visto le varie rappresentanze che abbiamo e anche la gestione di una guest house e quindi siamo molto contenti di poter cominciare veramente a pensare ai viaggi. Noi come HTMS stiamo cercando di stimolare il più possibile i nostri clienti, chi utilizza i nostri servizi a pensare positivo anche attraverso gli strumenti che le società che rappresentiamo ci hanno dato nel tempo. In questi mesi abbiamo fatto molti webinar, abbiamo fatto molte conference call, abbiamo cercato di stare vicino il più possibile a tutti. La sfida adesso è cercare di trovare il modo giusto per stimolare tutto il comparto del turismo a ricominciare, a pensare positivo e a riviaggiare il più presto possibile. Noi ce la stiamo mettendo tutti e siamo sicuri che insieme a tutti voi riusciremo a tornare quelli che eravamo prima perché il turismo è un mondo straordinario, meraviglioso, tutti noi ne facciamo parte e sappiamo che viaggiare è bellissimo. Ciao a tutti!